Continua la serie di incontri con i personaggi punto di riferimento per la scienza e l'innovazione. Dopo la senatrice Elena Cattaneo, lunedì 16 novembre, presso la Sala degli Stemmi dell'Università di Camerino, si è tenuto il convegno Innovare per crescere dal cloud all'economia dell'innovazione, al quale ha preso parte Agostino Sibillo, ricercatore e inventore del cloud. A lui si devono l'invenzione del cloud computing system, cioè il sistema rivoluzionario che permette di archiviare dati su un server remoto attraverso un qualsiasi device, computer, smartphone e tablet. Questo sistema è utilizzato da servizi come Google Drive, Amazon Cloud e Dropbox, tanto per fare un esempio. Agostino Sibillo, inserito dalla New Hampshire University tra i 100 inventori più importanti del XX e XXI secolo, ha tenuto un alezio agli studenti dal titolo Economia dell'innovazione informatica, dopo i saluti del prorettore vicario il professor Claudio Pettinari e dell'introduzione del professor Leonardo Mostarda, docente di IT Security di Unicam. L'incontro, organizzato dalla sezione di informatica di Unicam, è stata l'occasione per far confrontare gli studenti e moltissimi appassionati di nuove tecnologie con un ricercatore italiano che ha fatto dell'innovazione la sua forza in Italia e in tutto il mondo.